Il Consiglio Provinciale dello SNALS ha eletto per acclamazione all'unanimità Elvira Serafini, segretario provinciale dello SNALS di Taranto, a votarla il Consiglio Provinciale del Sindacato. Eletto nel congresso del 14 e 15 giugno scorsi, dopo la proclamazione da parte del Presidente della Commissione Elettorale Provinciale, Carmine Carlucci, l'incontro si è tenuto presso Openform Virgilio. Il riconfermato segretario provinciale ha ribadito il suo impegno per scuola, università, ricerca a Taranto e nel paese. Ringrazio anche tutti i lavoratori del mondo della scuola che sono iscritti allo SNALS e che ci danno la forza di lottare. È stato un momento difficile quello della pandemia, abbiamo attraversato dei momenti in cui bisognava essere presenti sul campo a difesa di tutti. Parlo di tutti i docenti che si sono subito rimboccate le maniche e hanno dato il meglio di se stessi. Oggi più che mai chiediamo degli organici adeguati, non è possibile ricominciare l'anno scolastico con un numero tanto elevato di alunni e di conseguenza è una battaglia che stiamo portando avanti. Stiamo portando avanti il nostro desiderio di ripartire con il primo di settembre con tutti i docenti in cattedra. Grazie. Grazie.